Cari soci e amici del Cavetio, in questa puntata speciale vogliamo invitarvi al prossimo Say What, l'aperitivo in lingua più word della City. Durante l'aperitivo potrai conoscere i nostri insegnanti di lingua, sorseggiando con la dovuta calma un buon cocktail, nell'accogliente ed elegante atmosfera della libreria Wine Bar La Bagatella, a Varese, conversando ovviamente nella tua lingua straniera preferita. Ricordatevi, Say What, Triptych Edition, venerdì 7 febbraio, dalle ore 19.30 alla Bagatella in via Speroni, 12, a Varese. Vi aspettiamo. A seguire la serata, Triptych offre tre location diverse, oltre all'aperitivo Say What, ci sarà l'aperocca al Barca Video in via Cavallotti e il grande festival Rock'n'Roll al Salone Varese Corsi in Piazza Motta. Trovi il coupon per la serata Triptych sul nuovo opuscolo di Varese Corsi e sul sito www.varisecorsi.net o www.insubriarete.net. Presentandola alle tre location della serata, potrai avere tre consumazioni a prezzo agevolato. Ci vediamo venerdì. Nel tacco è un bel giorno. Noi siamo e vi è almeno. On se vuole il vendredì. Sì, io, fraide. E cosa mi manca? Niente. E ti va bene. In maniera. Grazie. Grazie. Grazie.